salve ragazzi benvenuti al canale oggi ragazzi di nuovo qui sulla splendida mappa italia ovviamente su farming simulator 19 allora ragazzi siamo lasciati lo scorso episodio con il termine delle semine su tutti i campi compreso anche il campo 1 che ho terminato di seminare off camera e ho anche già finito di fertilizzare l'unica l'unica altra cosa che dovevo fare in off camera era l'arieggiatura del campo ad erba che vedete qua di fronte a me che non sono riuscito a fare quindi sto facendo adesso è qua in video per il resto non avevamo da fare nient'altro oggi che facciamo raga beh ancora precisamente non so cosa dobbiamo fare sicuramente andare a seminare il campo ad erba che è la cosa più importante che dobbiamo fare in questo episodio compresa anche la piantatura degli alberi che avevo detto che in questo episodio avremmo fatto poi di altre robe che dobbiamo fare sinceramente non saprei perché i campi sono già tutti pronti dovremmo solamente forse andare a seminare l'erba aspettare che cresca e credo ci occuperemo principalmente del campo ad erba oggi sinceramente raga non credo che abbiamo da fare altre cose importanti oggi vendite per quello che mi ricordo non dobbiamo fare nulla quindi dovremmo essere in teoria a posto ora raga sto andando a fare praticamente sto andando a passare la calce viva sul campo ad erba perché ho visto che il valore del ph è scarso ok addirittura forse quindi dobbiamo andare per forza di cose a passare il ph allora eccoci qua con l'andini qui devo dire se la sta cavando tutto sommata abbastanza bene quindi io credo che possiamo andare a prendere tranquillamente il nostro bellissimo same titan andare a prendere il nostro bellissimo dove sta lo spandical c'è a giusto avevamo anche il nuovo campo 2 adesso che mi sto ricordando vediamo un po come sta messo il campo 2 ma mi pare bene perché avevamo si esatto sistemato tutto nello scorso episodio giusto giusto che avevamo comprato anche il campo 2 è vero è vero mo non mi stavo ricordando raga è passato un bel po di tempo dall'ultima volta che ho registrato la mappa italia e mi so scordato un po di robe allora vai ci richiarichiamo non abbiamo più calce e allora facciamo una cosa prima di fare qualsiasi altra roba tanto i soldini devo dire di sicuro non ci mancano prendiamo il nostro bel bossini e andiamo a fare un bel pienone di calce da scaricare qui nel silo ok ho messo le sovrasponde raga adesso abbiamo 10 mila litri in più e abbiamo 45 mila litri allora il simbolo della calce è la pietrina eccola qua vai calce viva ok 45 mila litri di calce 8 mila euro li abbiamo spesi mamma mia se fa fatica oddio non sale più raga niente basta siamo fregati dai sali ok bom ci vediamo a casa va ok eccoci piano 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 ora raga carico fatto ovviamente adesso prendiamo il nostro bellissimo spandicalce e andiamo finalmente a spandere la calce sul campo ad erba sta spuntando anche l'erbaccia raga non ricordavo dell'erbaccia e vediamo un po erbaccia campo 12 e campo 21 per il momento sta nascendo sicuramente crescerà anche sul campo 2 ne sono quasi sicuro eh io terrei magari un pelino ecco magari teniamo a 5 per giusto per vedere se funziona bom intanto qui vai calce spandiamo la bella calce e ci spostiamo e levati non ci credo come una colla si è attaccato ma porca miseria ma guarda te ho questo qui se mi deve rompere le scatole ok raga ultimo pezzettino vai ho sovrastato un pochettino l'operaio ma chi se ne frega direi tanto l'importante è che lui finisca in teoria abbiamo perfezionato tutto il campettino orca se è cresciuta faccia dappertutto è cresciuta ma dai mamma mia non mi ricordavo che c'era l'erbaccia dappertutto allora questo direi che lo possiamo lasciare anche tranquillamente un attimino qui prendiamo lui che mi sembra un pochettino più rapido nel fare le cose non lo so il come si chiama il same lo vedo un po troppo lentuccio un po troppo appesantito invece l'andine bello spedito allora direi che però possiamo fare una cosa quasi quasi prendiamo il same magari lo iniziamo a mettere ovviamente sul campo ad erba a seminare ovviamente l'erba così intanto lui parte e siamo tranquilli così nel frattempo mentre noi diamo l'erbicide tutto il resto questo intanto mi lavora perché la cosa importante da fare in questa puntata assolutamente è è l'erbaccia e la piantatura degli alberelli quindi però direi raga che per fare la semina ad erba credo sia il caso di finalmente iniziare a prendere un qualche cosa di un pochettino più corposo le nina per il momento me le tengo perché sinceramente non so se potrebbero ancora essermi utili o no quindi nel dubbio ancora le tengo e ho intenzione di andare a prendere la bellissima giuncari giuncari chiamatela come volete che ha 6500 litri 7 metri di larghezza non necessita di areature precedenti o di coltivazioni precedenti quindi anche il coltivatore incorporato tipo come la nina con con il maschio e però tutto in uno insomma facciamo almeno tutto in uno e buonanotte poi ha solo ambiente bisogno di 170 cavalli quindi oh caspita raga però abbiamo un problema non abbiamo più sementi nel silo perché non abbiamo più sementi nel silo che fine hanno fatto le sementi nel silo ok 21.000 euro di semi alla faccia e qui sì in teoria al campo 2 boh sembra che quasi quasi non ne abbia bisogno io tengo comunque il tempo a 5 che non si sa mai magari spunta l'erbaccia anche su 2 boh vediamo ok eccoci arrivati credo che dovremo iniziare a mettere veramente dei dei silo in farm comunque probabilmente delle sementi quelle robe lì non lo so ci devo un attimo pensare perché anche questo metodo non mi dispiace se devo essere sincero però insomma per esempio in questi momenti qui che ho bisogno di andare rapido è un po' una scocciatura allora eccoci arrivati al campo creiamo un attimino il lavoro in campo però ovviamente prendendo il perimetro del campo ad erba ok raga ho generato il lavoro in campo me lo sono già anche salvato speriamo ce la faccia la la vedo un pochettino affaticato e non mi ricordo quanti cavalli è 190 va bene dai lasciamola per il momento lavorare e piano piano la controlliamo comunque non è proprio 7 metri è valore azoto perfetto ok ottimo va bisogna anche un pochettino di essere azotato bene qui stiamo andando erba bene intanto qua inizia a seminare poi piano piano vediamo il da farsi nel frattempo io mi prendo qui fermati assolutamente assolutamente fermati ok nel frattempo che qua carica voglio andare a vedere la mia bellissima dove sta questa eccola qua la giuncari si comunque bisogna di una metratura un pelino più piccolina è tipo 6 metri e 8 secondo me circa 6 metri e 8 questa qua 7 metri su carta ma in realtà è un po meno di 7 metri in realtà vabbè facciamo quest'altra operazione molto molto importante però qua scusate mi dice che l'erbaccia non c'è e difatti non c'è sul campo 14 ok perfetto andiamo sul 23 vai ok partiti belli spediti con l'erbicida ok campo 23 seccato vediamo un attimino sì perfetto campo 23 è andato via andiamo a dirigerci verso il campo 13 e 14 no 13 e 12 voglio dire ok perfetto anche campo 12 e 13 finito vediamo un attimino sì direi di sì vai dirigiamoci verso il campo 21 anzi aspettate andiamo a vedere prima come sta messo però il qui apriamo vediamo come sta messo il l'altro operaio va eccolo qua allora lui come sta messo beh devo dire molto bene molto bene circa 11 minuti abbiamo finito siamo al 293 esimo punto su 828 ok anche il 21 è stato fatto in teoria dovrebbe rimanere solamente il campo 1 se non sbaglio sì fortunatamente ce la siamo sbrigata abbastanza in fretta boh vado al campo 1 ok eccoci arrivati allora intanto iniziamo a partire da qua ok ultima passatina vai ultima di qui e ultima di qui e abbiamo finito perfetto boh chiudi chiudi tutto che sta combinando chi sta combinando ferma dai faccio io sto pezzettino che veramente ti vedo un po in difficoltà ok allora rifaciamolo ripartire un attimino da di qui che ho tolto giusto la punta quella lì che se no ci metteva troppo tempo e adesso dovrebbe in teoria andare su e giù per un totto in teoria sei minuti dovrebbe aver terminato sei minuti è giusto il tempo per andare a vedere che cosa possiamo combinare ah raga mi sono accorto solo ora che abbiamo i semi anche qui sul main c'è vero dato che l'avevo lasciato sul campo 1 non mi ero proprio ricordato che avevamo i semi qui vabbè meglio così tanto comunque un altro un pieno ci serviva nel silo quindi no problem stavo guardando nel frattempo gli animali e ho notato che hanno bisogno di un po di robina quindi cosa ho pensato andiamo a prendere il merlo e andiamo a ricaricare un po di robina allora vediamo un attimino i maiali hanno bisogno di paglia assolutamente per il resto più o meno ancora sono sistemati le pecore sono tutto a posto e i cavalli a parte la pulizia che però la pulizia è data dal fatto che spawna la come si chiama le tame dentro la stalla mi segna che è sporco però in realtà non è così allora sicuramente dobbiamo sistemare esatto immaginavo la pulizia che è la cosa molto importante allora si un po di paglia c'è iniziamo a prenderla piano piano iniziamo a dargliela a scaricare ok dai un pochettino di paglia l'ho sistemata siamo circa al 50 per cento adesso vado a sistemare anche la stalla dei cavalli anche perché dato che abbiamo un attimo di tempo me la vado un attimino a svuotare perché vedo che i cavalli stanno un pochettino peggio allora eccoci arrivati al maneggio apriamo la nostra bella porticina eccoli vedete tutto l'etame che si è andato a accumulare quell'etame lì lo dobbiamo andare tutto a togliere ovviamente occhio cavallini toglietevi ok abbiamo scaricato tutto vado a pulire anche davanti la mangiatoia che c'è sempre dell'etame anche lì e poi questi lavorettini qui ce li siamo conclusi nel frattempo che tanto aspettavamo il l'operaio credo abbiamo fatto un'ottima cosa ok bom abbiamo pulito tutto infatti adesso la pulizia è circa al 92 per cento si sono rimasti mille litri che sono quel pochettino lì che boh non riesco non riesco a raccogliere raga la benna mi si incastra lì da qualche parte ci deve essere qualcosa che la fa incastrare però va bene dai non fa niente quasi quasi ci potrei mettere però della terra lì forse potrebbe rimanere una cosa un po migliore così almeno vedo meglio dove dobbiamo prendere la roba credo che si assolutamente sì ecco mettiamo un bel mucchiettino qua così perfetto boh così almeno vedo un pochettino poi la come si chiama l'etame dove dove finisce insomma va bene scarico ancora questa ben nata sul bicchi e direi che poi possiamo tornare a casa anzi direi che già che siamo nei paraggi tanto questo cassone praticamente era mai è pieno piccolo cassoncino ma vabbè ci sta ce l'andiamo direttamente a vendere al biogas ok eccoci arrivati allora scarichiamo sta robina qui il titan deve essere rifornito perché non mi fai scaricare ci sono tipologie di robe che non possono essere scaricate lì al punto con lo scarico praticamente da cassone può essere scaricato con scarico da pala gommata ok bom lasciamo un attimino tutto qui andiamo a prendere andiamo a prendere di che cosa avrà bisogno sicuramente del fertilizzante e di fatti allora fermo percorso ok rimettiamolo al punto di partenza avvia percorso dai in teoria dovrebbe andare ok abbassa va ok quanto tempo dice che gli rimane circa 40 secondi circa ok raga l'ultimo pezzettino che è questo qui e direi che poi abbiamo finito oh la perfetto terminato bon e qui abbiamo fatto ora mandiamo velocemente avanti il tempo veloce facciamo crescere il tutto e poi direi che per questo episodio ci possiamo anche terminare quindi qua spegniamo tutto e via veloci col tempo porca miseria raga 469 mila euro di sostentamento animali e che caspita è alla faccia siamo sotto di 224 mila euro ma non ci credo ma stiamo scherzando veramente secondo me è un bug non è possibile siamo sotto di così tanti euro totale meno 469 mila euro sostentamento animali 500 mila euro di sostentamento animali e siamo sotto di 224 mila euro ma com'è possibile non abbiamo mai pagato così tanto di sostentamento animali cos'è sta storia qua 470 mila euro no sicuramente sarà un bug raga non accetto assolutamente una roba del genere 470 mila euro non l'abbiamo mai pagato abbiamo sempre pagato 1500 euro 500 mila euro è sicuramente un bug raga quindi io adesso ovviamente mi vado a rimettere tutti i soldi la cosa è sicuramente scontata beh direi che mi fermo così va mi fermo così vi faccio riflettere un po' su questa cosa per il momento raga direi che ci possiamo fermare qui ovviamente vi ricordo che in descrizione potete trovare i miei link utili il link delle donazioni il link per comprare tanti baggi scontati e ovviamente anche il link partner giants se volete comprare preordinare farming simulator 22 vi consiglio di farlo dal mio link in descrizione così supporterete anche il canale e ve ne ringrazio detto ciò raga con sotto di 224 mila euro io vi mando un grosso saluto e ovviamente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti